Apriamo il capitolo cultura con il Film Festival che si è tenuto a Londra come ogni anno grazie ad autori impegnati nel far conoscere la nostra cultura nella capitale inglese. Noi siamo andati al Coronet Theatre di Notting Hill per intervistare alcuni protagonisti. Il Festival torna per il terzo anno al Coronet Theatre di Notting Hill, dunque una terza edizione con un programma che include autori italiani, inglesi, europei, internazionali a parlare di letteratura anzitutto ma anche di temi contemporanei, di politica, di società, di internet, di traduzione e molte altre cose. Ecco è un momento importante chiaramente per essere qui con questo tipo di festival perché intorno a noi c'è Brexit, c'è la situazione politica e mettere insieme tutte queste voci con provenienze differenti e avere un pubblico che ci segue è una cosa importante soprattutto ora. Cambia probabilmente d'ora in poi per la cultura italiana il fatto che un autore italiano a Londra fino ad ora viveva in quella che era praticamente la capitale del mondo perché era cosmopolita, perché accoglieva tutti o quasi tutti. Londra con la Brexit, se e quando la Brexit effettivamente ci sarà, cambierà indubbiamente e da italiani londinesi ce ne accorgeremo.